Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera. Guarda l'altro mi chiama Emre Shan, dice adesso mi chiamo Emre Shan. Parte Emanuele dall'impegno di mercoledì, questa semifinale di ritorno con il Foggia. Quanto ci credete a questa rimonta? Sicuramente siamo lì, siamo a un passo dalla finale, quindi crederci è dovuto, è giusto così che ci crediamo. Sicuramente daremo il 100% per superare questo turno importante contro una squadra forte e speriamo che vada bene come vogliamo noi. Mi aspetto una partita molto equilibrata come l'è stata l'andata, cerchiamo di fare la nostra partita, non pensare agli avversari come abbiamo ben fatto in queste ultime partite. Ci racconti un po' la partita d'andata? Secondo me ci hanno condizionato gli episodi, ho sfortunato il nostro compagno di squadra, succede, capita, bisogna pensare alla partita di ritorno, bisogna vincere. Tanto con 1-0, 5 supplementari, bisogna vincere lo stesso, non cambia niente. Veniamo da 6 risultati positivi in campionato, quindi l'adrenalina, la carica, la voglia di andare in finale, di andarci a giocare questa doppia partita è tanta. Abbiamo tanta voglia di vincere, di fare una grande partita, di metterci tanta cattiveria, tanta voglia di vincere. Sicuramente vengo da un momento positivo, quindi bisogna spingere, andare oltre come lo stiamo facendo, sia personalmente che di squadra, e lottare tutti insieme per portare il risultato a casa. La Coppa Italia è un vostro obiettivo e sicuramente, essendo in semifinale, giocandoci una semifinale di ritorno, sicuramente il nostro obiettivo è andarci a giocare le altre due partite che rimangono, la finale. Catania Eh, su Catania potremmo stare qui una giornata intera a parlare. Beh, Catania ce l'ho tatuato dentro di me. Sono nato, ho cresciuto, la mia famiglia, sono catanese doc. Catania mi ha dato tanto, sotto tutti gli aspetti. Mi ha dato il trampolino di lancio verso il Mila, poi verso la Juve. Quindi Catania per me resterà per sempre dentro di me e spero che torni ai livelli che merita. 7 aprile 2019 Esordio tra i professionisti Ricordo benissimo. Ecco, ce l'ho tatuato nella mia pelle quel giorno. È stato bellissimo perché dopo tutta la trafila, con la maglia del Catania, con la maglia comunque dove io sono nato e cresciuto, è stato stupendo. Specialmente fare un assist per il gol, che ci ha portato alla vittoria, è stato davvero bello. Milan Milan è stata una bella parentesi della mia vita perché comunque mi ha aiutato a crescere, stare fuori di casa, che non è mai semplice per un ragazzo giovane. Ringrazio per questa occasione che mi è stata data. Ibrahimovic Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui, sicuramente non me lo dimenticherò. È stata un'emozione incredibile. Guardare specialmente uno, se non il più forte, diciamo, attaccante di quelle caratteristiche. Allenarsi insieme è stato incredibile. Fenomeno. Non c'è che cosa dire su questo giocatore. Ci racconti la chiamata della Juventus. All'inizio non ci credevo, però poi dopo un po' ho iniziato a leggere qualche messaggio, qualche amico. È vero, non è vero. È vero. In siga da lì ho iniziato a crederci e poi si è concretizzato tutto. Sono fortunato, mi trovo nel miglior club in Italia, quindi sono molto fortunato. La Juve mi ha fatto crescere in tanti aspetti, specialmente mentale e non solo di campo. Dentro mi reputo molto più maturo rispetto a quando sono arrivato. Sto lavorando molto e lavorerò per continuare questa mia crescita. Sono rimasto stupito dalla precisione che questo club ti dà sia nella mentalità, nel vincere. Non devi mai tralasciare niente, non devi dare niente per scontato e dare sempre il massimo in campo. È il tuo miglior momento da quando sei alla Juventus, secondo te? Sicuramente sì. Purtroppo non ho potuto far vedere quello che valevo e che valgo, dovuto a dei problemi fisici che fortunatamente le ho lasciate alle spalle. Spero di continuare così con la fame e con la cattiveria giusta. Dove hai trovato anche tu la forza per affrontare gli infortuni che ti hanno un po' minato questa continuità? Quel periodo è stato davvero difficile, perché comunque è stato un infortunio che non sai mai quando rientri. Non c'è una data di rientro, quindi lavori ogni giorno, speriamo che questo è il giorno giusto, il giorno buono, che sento meglio, invece non lo era. Quindi è stata una montagna da scalare. Adesso non voglio più pensare agli infortuni, ma pensare solamente al campo. 7 febbraio 2021. E qui è stato il mio primo gol con la maglia della Juve, dell'Under 23. È stata una bella giornata, abbiamo quante fine? 6-0, perché comunque era una grande vittoria tutti insieme. Poi è venuto anche il gol, quindi mi sono presentato abbastanza bene. Come ti trovi anche tu in questo modulo, questo 3-5-2, questo 3-5-1-1, sta esaltando anche un po' di più le tue caratteristiche. Sul 3-5-1-1, 3-5-2, come vogliamo chiamare, già giocavo anche a Catania, questo modulo, quindi mi trovo bene, mi trovo abbastanza bene. Poi non c'è un modulo prescelto, un modulo che simpatizzo di più. Sicuramente è un modulo che ho giocato, quindi conosco molto bene, non è un problema possiamo giocare in qualsiasi modo. Tra fine 2022 e inizio 2023 ci sono state quelle quattro sconfitte consecutive, ma il mister dicevano siamo preoccupati, i risultati torneranno. Sono state quattro partite che comunque tra prima squadra e infortuni sono mancate molte persone, quindi ci sta. Era un momento che andava superato, siamo stati bravi a superarlo e ora da squadra matura stiamo ottenendo dei giusti risultati. Siamo una squadra molto umile, di ragazzi molto umili che lavorano, che in silenzio, non dicono una parola e seguiamo le indicazioni del mister e le mettiamo in atto in campo. Zauli e Bramvilla sono due grandi mister, mi trovo abbastanza bene con loro come persone e anche in campo. Con il mister Zauli purtroppo non ho avuto quella continuità dovuta agli infortuni. Adesso con il mister Bramvilla sto avendo la continuità di poter dare almeno il mio 100% in campo. Posso dire due pregi sui mister. Mister Zauli per me era un grande motivatore. Invece mister Bramvilla mi trasmette quella tranquillità di dare il massimo dentro il campo. Si può sognare anche in campionato oppure in questo momento piedi per terra? Sicuramente piedi per terra. Comunque siamo a 9 punti dalla prima. Bisogna pensare a migliorare il risultato dell'anno scorso e quindi far meglio. Pensare partita dopo partita, portare i punti a casa, fare delle giuste prestazioni, alla lunga si vedrà. Intanto pensiamo a stabilizzarci nella nostra posizione. Numero 31. 31 perché è stato l'essordio con la maglia del Catania nei professionisti. Quindi questo numero me lo sopportato da quando esordito. Ricordo ancora c'era da scegliere il 31, 29 o 32. Io ho scelto il 31. E da quel giorno in poi non ho usato altri numeri. Se pensi a Dujan Vlaovic c'è una caratteristica magari che gli urberesti. Dujan è un attaccante fortissimo. È molto esperto, anche se è giovane ma dimostra tutt'altro in campo. I suoi movimenti, la sua cattiveria. È bravo davanti alla porta, cioè a tutto. Vorrei rubare la sua freddezza sotto porta. Ti ha sorpreso l'impatto che ha avuto Milik? Milik è un attaccante vero. C'è esperto sicuramente, tecnicamente fortissimo, molto umile. Lo stimo. Invece un assist da Di Mario Chiesa? Magari. Fanno quello che vogliono con la palla. Quello che noi non immaginiamo non lo fanno. C'è un difensore magari della prima squadra che è più difficile da superare. Bremer. Sono tutti forti. Mi retti sulle healing, tuoi ex compagni, oltre ovviamente anche a fagioli. Con te questa è l'essenza di questo progetto Next Gen? Chi vedi magari anche più cresciuto? Vedere tanti miei ex compagni di squadra lì. Giocare a Lion Stadium, giocare nei grandi palcoscenici. Ci mette tanta adrenalina. A noi che per crederci che tutto è possibile arrivare lì. È bello stato giocare allo Stadium la domenica. È bellissimo giocare quello stadio, con quelle persone. Cioè la vivi come un vero giocatore. E questo ti mette i brividi. Ci penso ogni tanto a come potrebbe essere il tuo di esordio. Spero di fare gol al novantesimo col vittoria.